ciao a tutti ragazzi sono eves e con questo video vorremmo iniziare io e gli altri ragazzi di god community italia una serie di video per l'appunto in cui andremo a mostrare una per una le principali serie che hanno caratterizzato il gioco di yu yu in modo particolare con le serie che contengono comunque più carte inerenti al formato di gutta prima di iniziare però volevo anche ringraziarvi per un importante traguardo che è quello dei 500 iscritti al nostro canale youtube e questo ci rende molto orgogliosi e ci spinge appunto a portare sempre nuovi video e nuovi contenuti questo primo video si concentrerà su una serie non da tutti conosciuta o comunque secondo me a mio avviso molto sottovalutata che è quella delle hobby hobby league nel corso dell'ultimo periodo soprattutto da quando abbiamo iniziato la serie di eventi la realizzazione di video per per la pagina una domanda che ci hanno posto in tanti è stata quella del si possono giocare le parallel le parallel appunto fanno riferimento alle carte delle hobby league con il termine parallel appunto ci si riferisce alla questa rarità che personalmente reputo forse la più bella tra tutte quelle disponibili in tcg e rende le carte però molto molto pesanti molto duri al tatto e spesso queste stesse si imbarcano e proprio la domanda infatti se si possono utilizzare ci viene posta perché spesso all'interno del mazzo sono riconoscibili in quanto proprio per l'imbarcatura sono per lo più riconoscibili in mezzo alle altre quindi spesso prima di iniziare i tornei quello che consigliamo è quello di far visualizzare le carte dai vari giudici in modo tale da capire se le stesse possono essere giocate oppure oppure no personalmente nel corso degli ultimi tornei le abbiamo fatte giocare anche perché il buon senso dei giocatori è stato quello di escludere quelle eccessivamente eccessivamente imbarcate e in linea generale comunque non ci sono stati non ci sono stati problemi allora iniziamo quindi con con la serie qui davanti abbiamo le hobby league 1 la serie hobby league 1 è stata introdotta da nel tcg nel 2004 in modo particolare da dicembre 2004 e per i primi diciamo circa tre mesi venivano distribuite ai partecipanti del tornei una più o meno ogni due ogni due settimane l'obby league 1 si differenzia dalle altre in quanto non ha la classica fogliatura delle hobby league infatti abbiamo i primi le prime tre carte che sono in rarità super ovvero green kappa le vie dragone d'edalo e king of the swamp e per quanto riguarda invece le altre tre carte della hobby league 1 abbiamo lord of the lamp l'oceano leggendario e fusion gate diciamo che ai tempi il gioco era gestito ancora da ude e in questa serie era stata rispettata più o meno la logica infatti le vie dragone d'edalo veniva distribuita assieme all'oceano leggendario che erano due carte diciamo utilizzabili in quello che viene chiamato umidec o water deck abbiamo poi king of the swamp invece che veniva distribuito assieme al fusion gate quindi per un mazzo incentrato sulle fusioni e poi invece con meno logica c'era green kappa di cui abbiamo pubblicato una discussione sulla nostra pagina qualche giorno fa infatti può essere una carta sottovalutata o comunque una buona carta di side veniva distribuito invece con lord of the lamp quindi la prima hobby league viene introdotta quindi queste carte celebrative queste carte diciamo di partecipazione dal primo dicembre 2004 e l'ultima carta della della serie di hobby league 1 viene distribuita sul mercato nel mercato ai tornei nel febbraio del 2005 con l'arrivo delle hobby league 2 invece si ha proprio l'introduzione della nuova rarità quindi la rarità parallel l'hobby league 2 viene distribuita partecipanti dei tornei dal gennaio 2006 fino al giugno sempre dello stesso anno quindi giugno 2006 abbiamo cyber jara tifone spaziale mistico sang quindi come possiamo notare sono carte utilizzate quasi da tutti i mazzi principali di god format e quindi anche questo motivo che mi ha spinto a iniziare questa serie di video proprio dalle dalle hobby league hobby league 2 che come l'hobby league 1 è composta da sei carte mentre dalla hobby league 3 invece le carte che comporranno ogni serie diventano 7 quindi passiamo alla hobby league 3 che viene distribuita ai partecipanti dei tornei a partire dal luglio del 2006 fino al dicembre del 2006 abbiamo ratto gigante che per lo più vede giocate nei mazzi terra o in zombie in alcune liste di zombie creatur swap che io personalmente amo particolarmente perché la utilizzo in diversi mazzi primo fra tutti sempre skill drain zombie abbiamo trap hole spear dragon mystical tomato che è una di delle carte veramente belle nella realtà parallel e quindi viene giocata diversi mazzi caos caos recruiter abbiamo royal decree quindi una buona ristampa sicuramente anche ai tempi in quanto le copie reperibili erano quelle ultra da tournament pack oppure super da dark beginning e poi abbiamo una buona fusione che è quella di dark dark balter passiamo ora alla hobby league 4 hobby league 4 invece vede il debutto nell'aprile del 2007 fino a novembre 2007 in questi anni però personalmente non so per quale per quale motivo la hobby league 4 e la hobby league 5 che andremo a vedere in seguito sono state distribuite praticamente in contemporanea allora le carte che vanno a comporre la hobby league 4 sono forza esiliata spade rivelatrici asura priest graceful charity kiko the ghost destroyer entorrential tribute questa è l'espansione di hobby league quindi la hobby league 4 che in generale preferisco in quanto ci sono delle carte che sono staple quindi abbiamo come graceful charity buonissime magari di side deck car o side deck oppure anche di main nei mazzi più agro quindi come kiko abbiamo exiled ford che è usata ad esempio in god control o a mazzi war quindi molto bella bella asura priest spade rivelatrici c'è chi la gioca chi non la gioca alcuni mazzi barn o stall la utilizzano e poi abbiamo torrental tribute che anche lei è quasi una staple in in tutti i mazzi passiamo poi alla hobby league 5 e con la hobby league 5 però troviamo anche delle carte infatti essendo già nel 2007 che non fanno più parte del formato del formato got alcune no e alcune sì infatti scape che è usata ad esempio è utilizzatissima di cui ci pure nei mazzi caos e poi invece abbiamo i sei samurai gadget best cristallo e la magia collegata le best cristallo che non fa parte del formato però non mi sembrava il caso di escluderle comunque fanno parte di questo set quindi è giusto è giusto menzionarle quindi appunto abbiamo kurbinkol gadget verde crystal bacon de koichi six samurai zanji e skateboard skateboard veramente molto bella infatti ve la faccio vedere spesso ecco questa è una carta che trae in inganno quando si vede nei binder perché non notando subito la follatura parallel possiamo scambiarla per un ultra da retropack soprattutto in inglese quindi di alto di alto valore ecco per appunto a riguardo alla lingua fino alla hobby league 5 tutte le carte della hobby league sono stampate in lingua e lingua inglese quindi sono reperibili soltanto in lingua inglese ma nonostante ciò venivano distribuite in tutto il mercato mondiale va bene sempre riguardante tcg poi abbiamo invece la hobby league 6 quindi hobby league 6 vengono introdotte carte anche nelle altre lingue comunque vengono stampate carte in lingua diverse da quella da quell'inglese viene distribuite partecipanti dal gennaio 2008 fino al giugno del 2008 quindi abbiamo qua soprattutto il nobiluomo rimozione del limite la dd warrior lady rinforzi dell'esercito call of the haunted e angelo angelo splendente quindi con angelo splendente vediamo che va a completarsi un po il il trittico di recruiter molto forti che sono angelo splendente il mystic tomato e abbiamo anche ratto di gigante viene esclusa la tartaruga piramide quindi con mio grande dispiacere essendo un amante del mazzo zombie però comunque giangelo splendente tomato per chi gioca a causa recruiter sono secondo me dei bellissimi dei bellissimi pezzi quindi qui vediamo un po di lingue diverse quindi vediamo il nobleman in tedesco rimozione del limite in tedesco la signora guerriera di d in italiano le prime due coppie francese la la terza coppia call of the haunted invece due inglesi e una in italiano quindi ho voluto un po sbizzarrirmi anche con le lingue anche se già diciamo chi chi ama per avere i set della stessa della stessa lingua io ho cambiato un po diciamo idea nel senso che volevo comunque avere un po tutte le lingue stampate di queste di questa serie di hobby league passiamo poi all'ultima quindi l'hobby league 7 e con l'hobby league 7 abbiamo anche un abbandono della classica follatura delle hobby league infatti prendiamo per esempio carte a ritorno sicuro viene distribuita da luglio 2008 a dicembre 2008 e le carte non saprei neanche come definire sono una sorta di ultra rara però con la follatura che è una sorta di foil bleed che va su tutta la superficie della carta comunque molto belle visivamente e sicuramente non presentano più il problema dell'imbarcatura infatti a differenza delle delle parallel queste sono molto più simili tra virgoletta le carte carte attuali quindi sicuramente non ci sono problemi nell'utilizzarle durante i nostri tornei tornei anche se ci sono delle bannate o delle carte non giocabili come logicamente i gadget abbiamo comunque mostro risuscitato abbiamo la grandiosa talpa neospaziale abbiamo spirit gadget rosso carta del ritorno sicuro e il gadget giallo quindi qua si conclude questa prima carrellata di carte della della hobby league ripeto a me è una serie che piace molto forse perché ricorda i primi tornei che a cui ho partecipato proprio riguardanti tornei ecco una cosa che mi sono dimenticato di dire è che spesso questi tornei utilizzavo il formato tradizionale quindi non il formato avanzato anche perché erano comunque tornei local in cui si prediligeva il divertimento e non tanto la competizione infatti i miei ricordi più più piacevoli legati ai tornei legati a quel periodo tornei di quel periodo sono proprio un po l'andare a giocare per per divertimento con dei mazzi for fan oppure i cosiddetti minestroni minestroni di carte però anche il solo partecipare ricevere una carta di partecipazione era particolarmente particolarmente bello io vi ringrazio spero che questo video vi sia piaciuto e soprattutto sarà il primo di una lunga serie in cui andremo a esplorare un po il mondo collezionistico il mondo forse anche un po più affascinante meno conosciuto di yugioh e che è quello delle delle serie delle della storia che c'è dietro dei periodi in cui queste carte venivano distribuite a livello europeo a livello americano come vedremo ad esempio in alcune serie delle tournament pack e soprattutto avremo poi modo di di sentire la vostra la vostra opinione nei commenti spero qua sotto quindi chiesciate quali sono le vostre idee riguardanti questa serie oppure se se vi piacciono se non vi piacciono e sperare di creare un po di conversazione grazie alla prossima